Grazie a Scalobatti Pagliese, dopo circa due anni di lavoro che ha visto tutta l'associazione Artpost impegnata, pensiamo di essere arrivati a un punto fermo perché abbiamo trovato la vecchia varietà, l'abbiamo caratterizzata e abbiamo fatto anche una richiesta alla Regione e al Ministero che venga riconosciuta come varietà da conservazione. Questo vuol dire semplicemente che un domani noi avremo questa varietà ufficialmente esistente e che dovrà essere poi dopo, per commercializzarla, per coltivarla e per fare tutto quello. Per adesso sono dei prototipi le varie conserve oppure sono in vendita? Sono prototipi nel senso che praticamente quest'anno abbiamo trasformato i pomodori per vedere anche le qualità organolettiche del prodotto perché chiaramente la vecchia varietà potrebbe essere anche una cosa non vada. Invece abbiamo notato che è bellissima. Risultate? I risultati? Il poltano elettrice? Sì, la abbiamo tutti i risultati delle analisi che sono stati fatti, sono ottimi perché questo ci porta ad andare avanti e anche a vedere se ci sono altri tipi di trasformazione che possono essere. Proprietà nutritive sono nello standard? Sì, è un pomodoro che tende al dolce, questa è la cosa fondamentale, è una cosa che pare che almeno nei tempi moderni sia molto ricercata, è una cosa che invece non è passata. E quindi può avere un indirizzo specifico come utilizzo o può essere comunque utilizzato dappertutto? Noi abbiamo visto che intanto può essere utilizzato anche come prodotto fresco perché è un'ottima cosa. Poi come passata è stupendo, sulle pizze l'abbiamo assaggiata è ottimo. Poi vedremo se ci potrebbe essere qualche altro indirizzo diciamo. Anche fresco? È fresco detto di cosa. E quindi si presta su tutto? Si presta perché i nostri padri e i nostri non erano stupiti quando sceglievano una varietà da cultivare, sceglievano una buona varietà, non è che sceglievano cose che non andavano. Quindi voi avete raccolto l'eredità della nostra generazione. Ma che cosa devo dire? Amici battipagliesi comprate il peschello battipagliese perché è tutto naturale. E pubblicizzatelo nel mondo. Allora, pubblicizzatelo nel mondo perché è veramente qualcosa di ottimo, di eccezionale. Grazie. 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 Grazie.